ma fermo le macchine ti fa ferma e dici guardi che se vuole puoi parcheggiare qua guarda, arrivi io in moto, arrivi io in moto ehahahah io c'è forza, sperza, sperza stai così, stai così mi fanno un palettino dai, mi fermi a me in moto mi fermi a me in moto, dai dammi la borsa, dammi daniel daniel no dammi la borsa no daniel il tardo non lo farò mi sento a cliente la bc e ritorno il voto real la parola poi c'è in questo senso la parola è arrivata maria del palo t ma i dati in pausa e non mi pareppi che mi pareti più di un altro ma grazie ma non vuoi via oh ok 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 no no ok 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 a per me per 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 roma 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 il cappello di matteo ahahah roma dicevi tanto guadagnare chiamò che chiamò il mago dai guarda la guarda la ricetta anto per la parte del minuto albana ok metterla dentro e volerà farlo dietro carriota per favore albaia 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 oddio oddio ora per favore grazie piantala Vai a rire Ma dove va? Sei scemo Ma dove va? Ma dove va? Ma dove va?